Dopo l'approvazione in giunta del progetto esecutivo, il comune di Fano aveva bandito la gara per l'affidamento dei lavori in piazza Marcolini. Un intervento annunciato da tempo che ha subito delle correzioni in corsa, tra cui la decisione di conservare 8 dei 9 lecci. Uno di questi era stato espiantato e collocato in un giardino privato a camminate grazie a un gruppo di cittadini ambientalisti. Ed ecco come diventerà quest'area del centro storico oggi adibita parcheggio. Ad illustrare i dettagli, l'assessore ai lavori pubblici al decoro urbano Barbara Brunori. In questo momento la gara è conclusa, stiamo aprendo le busse per poi aggiudicare i lavori. I lavori dovrebbero terminare entro l'estate, proprio perché comunque sono lavori sostanziali e quindi non solo architetturali, ma deve essere rifatta la pavimentazione, l'illuminazione, sedute, poi su un'area purtroppo fortemente degradata e nel preservare quelle che sono alberature, quindi con un'attenzione maggiore. Dopodiché la cisterna verrà preservata, perché è stata ritrovata nella parte sottostante, per salvaguardarla, diciamo che nella parte sopra verranno applicate delle sedute, proprio per evitare un sovraccarico di peso che non è idoneo a quello spazio. Per quanto riguarda la fontana invece? La fontana verrà assolutamente recuperata, proprio perché questo spazio ha una vocazione artistica, è stata riqualificata da un architetto e quindi anche poi con l'aiuto di quello che è il liceo artistico a Polloni, con il grande entusiasmo dei ragazzi che in questi mesi hanno, diciamo, perseguito l'obiettivo, anzi con grande maestranza. Mi sento di ringraziarli perché si sono messi a disposizione e presto troveranno qui al centro di questa nuova piazza un loro prodotto, un qualcosa realizzato e riqualificato con le loro mani. Il progetto complessivo, ha poi ricordato Brunori, è stato realizzato dai tecnici del comune, in prima linea l'architetto Elena De Vita, con il supporto dell'architetto Pamela Lisotta e del geometra Mario Silvestrini, responsabile del procedimento. Anche a loro sono andati i ringraziamenti dell'assessore. Un'attenzione particolare è stata rivolta anche all'illuminazione. Un'illuminazione scenografica e architetturale che valorizzerà la piazza in tutta la sua essenza. Sono previste un'illuminazione a LED nella parte delle sedute, quindi di fianco le tre ampie aree verdi, ma anche una nuova illuminazione a luce lavata sulla facciata proprio del Palazzo Marcolini, proprio per valorizzarla in tutte le sue parti. Ricordo che la luce lavata è proprio la stessa che noi abbiamo applicato sul Pincio, quindi dà anche questo effetto suggestivo per valorizzare ancora di più la memoria storica. Un intervento importante anche per valorizzare questo piccolo scorcio del centro storico. Sì, un intervento dove, come vedete oggi, è stato un po' lasciato a parcheggio, invece ha una forte vocazione culturale, non solo per la presenza di questo palazzo, dove hanno vissuto tanti personaggi illustri, hanno fatto la storia e non per ultimo poi si è insiedato quello che è il liceo artistico a Polloni, dove tre di questi componenti poi hanno proprio realizzato la stele che tornerà al centro. Un luogo dove ci auguriamo di realizzare tante iniziative anche di carattere culturali per tutta la città, proprio che ospiti sia tutto quello che potrebbe essere il lavoro di associazioni, ma anche di singoli cittadini che veramente nella loro semplicità vorrebbero sedersi per leggere anche un libro. Questo è uno spazio molto bello che torna ad essere della città, uno spazio che ci auguriamo che sia vissuto al meglio.